Oggi si era una partita fondamentale che nel questo piccolo diciamo campionato che ne abbiamo e a vincere oggi era sicuramente un passo avanti verso il nostro obiettivo che ne abbiamo e direi quanto derby però soprattutto a far vedere che noi giochiamo calcio, sappiamo giocare e quindi questo ne abbiamo visto soprattutto primo tempo come si gioca calcio quindi complimenti ai ragazzi e niente quindi sono contento di apportare tre punti che era fondamentale per noi. Nel secondo tempo dobbiamo gestire ancora meglio sicuramente la partita perché sicuramente le gol a fine primo tempo, quello che ha capitato, diciamo Eurogoal immagino che ha fatto perché è molto difficile tecnicamente fare e penso che è unica occasione, unica possibilità avuti in primo tempo perché non mi ricordo neanche se arrivati al fondo del campo loro nel primo tempo e secondo tempo sicuramente abbiamo un po' abbassati, sembra un po' ritmi, non siamo stati più così aggressivi e quindi questa cosa qua dobbiamo nel senso mantenere tutta la partita perché partita non si gioca 45 minuti però 90. Però in tutte queste difficoltà come anche secondo gol è mancato, non so, da rivedere un po' del calcio d'angolo cosa è successo perché non ho capito bene qual era la problematica subire questo gol perché è da evitare perché siamo in tanti e quindi porta un po' di ansia a tutti perché sembra che gestisci tutta la partita e mantenere il risultato che era fondamentale però anche sicurezza nostra perché è fondamentale anche psicologica infatti dopo sicuramente noi abbiamo utilizzato i nostri sforzi a sprecare energia di avversario perché loro non ce la facevano più secondo me, infatti dopo gol non riuscivano neanche più a spingere e noi comunque mantenendo il nostro gioco, il nostro sistema di gioco avevamo ancora tante palle di gol immagino quindi sicuramente dobbiamo sfruttare ancora meglio perché penso partita da finire con un po' di gol di più immagino e essere un po' più tranquilli, invece ne portiamo un po' a tutti quanti un po' a aspettare questa attesa di vittoria e lì dobbiamo sicuramente migliorare infatti abbiamo questa margine da migliorare a tutti e quindi lavoreremo su questi aspetti Sì, sono ancora tante, è un campionato che purtroppo ogni partita diventa sempre la più importante oggi era una partita importantissima, dovevamo solo vincere, ci siamo riusciti anche se sicuramente dobbiamo migliorare perché è una partita dove siamo andati sul 3-0 primo tempo non possiamo secondo noi rischiare poi così tanto quindi bravi perché comunque siamo riusciti a vincere ma consapevoli che abbiamo tanto da fare ancora adesso domenica ci aspetterà un'altra partita ancora importante d'altronde è un mini girone così e il bello è anche questo, speriamo di farci trovare pronti Guarda, come dicevo prima, il campionato è talmente piccolo, talmente veloce che la partita di svolta secondo me era già con l'Atletico Castegnato perché se non avessimo vinto quella ci saremmo trovati in difficoltà così poi lo è stato anche con Leon perché anche lì se non fossimo riusciti a recuperare sarebbe stata dura e così lo era anche oggi perché non vincere oggi avrebbe voluto dire stare a metà classifica domenica giochiamo contro Zingonia là e se non vinciamo quella partita ci ritroveremo dietro e quando poi mancheranno ormai quattro partite quindi è un campionato bello per questo perché ogni partita comunque è fondamentale Grazie